Matteo Aldovardi, dopo tre stop consecutivi, possiamo proprio dirlo, è proprio bello vincere, vero? Sì, è proprio bello. Poi comunque veniamo in un momento molto difficile, tanti infortuni, problemi con il lavoro. Diciamo che il gruppo stasera è stato molto un gruppo, eravamo molto affiattati come partita. Personalmente sono contento, abbiamo spostato gente che non giocava in alcuni ruoli da anni, come Baldassini che l'ha rimessa al centro. Abbiamo entrato fuori una grinta unica, la partita era difficile, si sapeva, gli avversari cercavano punti. Una squadra ostia, loro erano molto aggressivi in battuta. Senti, come ti senti? Ti senti meglio ora che stasera, che hai vissuto una serata un po' da protagonista, diciamo, dopo tanta panchina, vero? Era ora, dopo oltre un anno che sei qua, giusto? Sì, sì, diciamo, l'anno scorso sono rientrato in società dopo cinque anni di inattività completa. Per me è una soddisfazione. Per me la società sta lavorando molto bene, anche se i risultati, insomma, speriamo che vengano. Io credo che il lavoro sia la cosa migliore e la continuità. Personalmente sono contento perché abbiamo vinto, ormai, insomma, è arrivato ad una certa età. Però lavorando sono capacità di prendermi e come mi sono ripreso io, penso che la squadra si spinta bene per fare buone cose. Avevi fatto una partita più o meno intera una settimana fa, stasera sei stato, appunto, direi, tra i migliori. Cosa dici? Ce lo possiamo aspettare un Aldo Vard di top scorer per il derby? Ma, quello si spera. Uno viene in palestra, la competitività a me piace. Fa parte dello sport e il derby comunque penso che sarà una partita strana come tutti i derby. Sarà una partita molto intensa. Insomma, il derby è una cosa a parte. Sì, grazie. Sì, grazie. Sì, grazie. Sì, grazie.